E' un anno e quattro mesi che noi abbiamo una sindaca, scusate se lo dico sindaca, ma io ho dovuto lottare tutta una vita per farmi declinare al femminile, per cui preferisco declinare al femminile anche chi è nata, donna, quindi la chiamerò sindaca. Sei molto boldrignana. Eh sì, sono molto boldrignana. Allora, un anno e quattro mesi che abbiamo la sindaca Virginia Raggi, che aveva promesso, ha fatto una campagna elettorale, aveva promesso che la città sarebbe cambiata. E bisogna dare atto che la città è cambiata, è peggiorata. E lo dico con la morte nel cuore, non lo dico né da militante né, io non ho nessun partito di appartenenza, lo dico da cittadina romana, chi ama così tanto questa città di aver deciso di venire a vivere in questa città. Chi ha occhi per vedere, va in giro per la città, si rende conto di quello che è la città. Una città sporca, tanto per cominciare. Si era detto che sarebbe stata fatta una rivoluzione su questo. La città è più sporca di prima. Qualunque persona viene a Roma, da fuori, da qualsiasi parte, è la prima cosa che nota. Non solo nelle periferie, anche nel centro. Si era detto che sarebbero risolti i problemi delle buche nelle strade. Bisogna andare in alcune strade peggio del pianeta Marte. Ci sono dei crateri incredibili. Come hanno risolto il problema delle buche? Non coprendoli, ma mettendo un limite di velocità sulle arterie, tipo via Cristoforo Colombo e via Salaria. Per cui, se tu vai col motorino, è appena piovuto e non ti accorgi che lì c'è un buco, c'è un cratere perché c'è l'acqua e magari ci va a finire dentro, il comune dirà è colpa tua perché andavi magari a 35 km orari. E c'è il ritiro della patente e la multa. Quando era consigliera la sindaca Raggi e c'era Marino, quando pioveva, twittava divertendosi dicendo, attenzione stanno arrivando le piogge, gonfiate i canotti. Beh, dopo tanta mancanza di pioggia, la prima pioggia che è venuta a Roma, allagamento, perché nessuno si era preoccupato di fare una cosa molto semplice, cioè di togliere le foglie secche. Scusate Domi, questo non lo fa nessuno, non lo faceva Marino, non si capisce. L'accusa più grande che può essere data, guarda, l'offesa più grande che può dare al Movimento 5 Stelle è dire che sono come gli altri. L'offesa più grande che sono cambiati assessori, uno dopo l'altro, il bilancio è stato bocciato dal Consiglio dei Revisori dei Conti. Cioè il bilancio del 2016 sulla situazione creditoria e debitoria di alcuni enti importantissimi per una città come Roma, cioè l'ATAC e l'AMA è stato bocciato dai tecnici. Beh, quando era all'opposizione a Virginia Raggi, diceva Marino, dovete tenere in considerazione i pari dei tecnici. Adesso che hanno bocciato il loro, dicono no, queste sono valutazioni politiche. Io non voglio dare la colpa ai Romani, cioè la colpa è che ci sono i topi a Roma, non è colpa dei Romani. Qualcuno ha fatto una campagna elettorale dicendo che arrivava il pifferaio magico a Roma. Capito, però i topi si erano pure prima della Raggi. E allora uno doveva dire la verità e dire non veniamo a fare la rivoluzione, veniamo e vediamo se ci riusciremo a farla. Invece hanno illuso persone deluse giustamente da destra e sinistra. Allora questo fa parte della propaganda politica sempre quando ci si presenta le elezioni. E sono uguali come gli altri, promettono e non mantengono, uguali agli altri. Io ho notato che c'è una sindaca che quando sono cominciati i primi problemi all'inizio ha dato colpa alle amministrazioni precedenti. Poi quando è cominciato a passare un po' di tempo e questa cosa non stava più in piedi ha cominciato a dare la colpa alla regione. Poi al governo e poi se c'è un problema giudiziario dall'altra parte, tutti pronti a dire galera, manette. Quando capita da loro aspettiamo le carte. Questa non è politica, è schizofrenia. La città è ferma e noi abbiamo una sindaca che sembra un po' una licetta sott'olio, immobile. Grazie. Grazie.